Gestiva senza alcuna autorizzazione una discarica di auto e moto dismesse perché radiate dalla circolazione. Circa una cinquantina i mezzi che aveva stoccato senza nessuna precauzione per il contenimento dell'olio del motore, del liquido refrigerante e dei residui di carburante, ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia stradale di Arezzo. Gli agenti nei giorni scorsi avevano notato in un'area di campagna non lontano dall'abitato di Bucine una grande quantità di veicoli, in parte veri e propri rottami, ammassati in uno stato di abbandono. Accertato che in quel luogo non risultava censita alcuna discarica autorizzata, è scattata una perquisizione. Così la polizia di Arezzo e San Giovanni si sono presentate alla porta del gestore, che è stato denunciato per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e commercializzazione abusiva di parti di ricambio. L'area infine è stata posta sotto sequestro e al termine delle verifiche tutti i rifiuti saranno smaltiti, secondo le regole.